Signori, veramente emozionante, perché questa persona sta soffrendo. E vedete, non vensa una lacrima, a differenza di tutti gli altri che sono venuti dalla Tofanina. È una donna immensa. Veramente, guardate, è incredibile ascoltarla. Mi piacerebbe leggere il suo libro. Io penso che con il film ha sofferto ancora di più questa Allegra Gucci, perché questo film, da quello che ho capito, l'hanno reso grezzo. Circondare, o meglio, travolgere dall'oscurità che aveva vicino. La descrivi come una donna tratta dal buio, come una falena. Come una falena al contrario. Purtroppo sì, perché purtroppo si aprima... Ha situazioni veramente terribili, signori, perché questa, quando è morto il padre, aveva 14 anni, mi sembra. Cioè, proprio quando sei adolescente il dolore... E poi se ne parla sempre. Noi all'inizio non sappiamo nulla, ma arriva un bel giorno che quando noi scopriamo che lei l'ha conosciuta in carcere, comunque in quel periodo lei non poteva neanche frequentare dei pregiudicati, la esortiamo a non commettere lo stesso errore. La esortiamo a pensare alla sua famiglia, che siamo io e mia sorella. La esortiamo a prendere una scelta verso la luce. Purtroppo lei, ancora una volta, sceglierà di seguire l'ombra. Nel libro la descrivi come un alfabete di sentimenti... È terribile, guardate, è terribile, perché sta parlando della madre, eh? Cioè, è arrivata ad odiarla alla tua mamma a un certo punto. No, io credo che... Ecco la madre, ma... Signori, veramente, io... Sarà un momento di sensibilità mia, personale? Eh, ma... Mi arriva dentro casa il dolore di questa persona, voglio dire... Considerando anche che io ho dormito in strada, figuriamoci, è un altro contesto. Eppure mi arriva molto di questa intervista. Continuo a vederla e vi lascio, perché questa è una grande donna, un forte abbraccio. Grazie. Grazie.